Ciccio, guarda i nostri amici dei Cartoons cosa ci hanno mandato per Natale. Vabbè, ma dico io, so in quattro, so. Potevano fare una colletta e mandarci un bel panettone e una bottiglia di champagne. Vabbè, colleghiamoci con Atalanta-Milan. Come va, mister? Eh, come va? Non siamo ancora fuori dal tunnel. Siete ancora nel tunnel, l-l-l, del gioco a rilento. Siete ancora nel tunnel, l-l-l, del golf a tastento. Quando vedo il Mila mi annoio, dopo un po' mi addormento. Quando vedo il Mila mi annoio e dopo un poco mi addormento. Presidente, ma che minghia ci fa vestito da Babbo Natale? Devo portare i regali ai bambini poveri di un presigioso Yacht Club. A Natale siamo tutti un po' più buoni e anch'io faccio un poco di beneficenza. Minghia, beneficenza è un prestigioso Yacht Club. Allora, visto che è buona, me la faccia pure a me un po' di beneficenza. E che ti serve? Eh, non mi dispiacerebbe un regista forte, anche perché dobbiamo affrontare un Barcellone. Ehi, babbo, capirai che sforzo? Ti do Christian de Sica, ma ha già fatto tanti di quei cine panettoni. Preferivo la cine suppressata. Un panettone mi crea un gas nello stomaco. Delicatissimo. Piuttosto, mettiti queste. Mi fai da renna. Ah, ho capito. Mi ha ingaggiato sotto Natale per farmi fare sti lavori di fatica. E mica potevo fargliela fare ad Ancelotti, la renna. Quello ogni due minuti voleva essere rifocillato. E io pago. Partiamo? E no, eh, un'altra falsa avvertenza, no? E che minchia.